il migliore dei mondi possibili è un podcast di kairos media io sono un loro arti e il caso non esiste il senso del mondo e vince e a che stai questa cappella sistina la madonna per partorire gesù cristo sempre nove mesi dovete aspettare e ho capito però tu con sto natale sono tre anni stagione su presenza come ti faccio con uscire responsabile ci mette una buona parola ti faccio provare un brivido diverso un'esperienza tutta nuova qual è già lavorare la vita mia è dolce come la crostatina di frango che fa quella pasticceria dove in centro quella che cosa due mesi fa di che colore percepite here abbiamo detto magari una mettiamo di entro al presepe si dimetizza meglio con i muschi ma chi vuole che se ne fotte se fanno un attentato in periferia il danno più grande che fanno al massimo è un posto a te è un altro un altro posto da scanzare con la macchina quando torni a casa da lavoro ma quando è che una bomba non fa più notizie facciamo così facciamo una partita secca 11 e chi vince va a fare l'altro ciò che vuole sai giocare bene scupa passare un m no è morto domani alle quattro sono le sequer io non voglio morire per presto ancora troppe cose da fare sarebbe ingiusto come se le cose in questo mondo si muovessero con giustizia e per difendere quello che ho sono disposto a rispondere allo stesso modo come se dice occhio per occhio eri se il mondo cieco meglio scegli che morti di fame partono cieche se non ci vedi non lo sai dove sta il cibo e muori di fame lo stesso ma cazzo cazzo ma c'è i cani se trovano l'erba o ma secondo voi i cani ti utilizzano per gli esplosivi gli stessi ti utilizzano per la droga no lo trovo cioè cioè lo stesso cano fanno di giustizia e poi ci fa venire straordinario cani c'è sì non c'abbiamo che stai dicendo mi sembra che in questo garage siamo tutti dalle quattro ma pare che nessuno non è venuta in una barca partiggiata a mare tu non devi chiamare proprio nessuno hai capito una sorella quel giorno non c'è da ne che ho fatto siamo in tesi non lo so come funziona a me basta che funzioni nessuno innocento nessuno nessuno Grazie a tutti.